Difendete l'obiettivo. Sei l'ultimo rimasto. Completa la missione. La bomba è stata piazzata. Ricognizione UAV in attesa. Ripeto, ricognizione UAV in attesa. Approvvigionamenti pronti per la consegna. Indicateci dove li volete. Ammigliate il monitor disponibile. Ottimo lavoro, Delta. Preparatevi al prossimo round. Cerca e distruggi. Difendete l'obiettivo. Ripognizione UAV disponibile. UAV online. Ricarico! Air, copritemi, ricarico! Missile predito, alleato in arrivo. Ottimo lavoro, Delta. Preparatevi al prossimo round. Cerca e distruggi. Difendete l'obiettivo. Approvvigionamenti in avvicinamento. Missile predito, pronto a lancio. Ripeto, missile predito, pronto a lancio. La bomba è stata piattata. Bomba disinnescata. Ottimo lavoro, Delta. Preparatevi al prossimo round. Intervallo. Cerca e distruggi. Distruggi, centro a lancio. Bomba acquisita. Approvvigionamenti in avvicinamento. UAV online. Missile predito, alleato in arrivo. Missile predito, alleato in arrivo. естro a lancio. Bussile predito, alleato in arrivo. Missile predito, alleato in arrivo. Ottimo lavoro Delta, ben fatto.